Il frutto del tuo seno è Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, amici. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno è Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, amici. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno è Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, amici. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno è Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, amici. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno è Gesù. Santa Maria, maledetto, che prega per noi peccatori. Adesso, nell'ora della nostra morte, amici. Ave Maria, piena di grazia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.